Mh, torte! Quella è una torta! Non ti dispiace, vero? Questa glassa è deliziosa! Chi ha messo degli occhi nel ripieno? Guardia! Oh-oh, il piano B? Ci hanno scoperto! Garaggio! Garaggio! Difendo! Sorpresa! Doppia sorpresa! Poverino, mi sembri un po' teso Hai voglia di parlarne? Voi andate! Li tratteniamo noi! Forza! Butta tutto fuori! Frate Shai! Scusa, il nostro tempo è finito! Ciao! Ciao!